Il tema di questa settimana è Ad ognuno secondo la sua fede La verità è una ed eterna Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale Nel profondo del tuo essere Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramansa Yogananda Nel Vangelo secondo Giovanni capitolo terzo leggiamo Chiunque infatti fa il male odia la luce E non viene alla luce Perché non siano rivelate le sue opere Ma chi opera la verità viene alla luce Perché appaia chiaramente che le sue opere Sono state fatte da Dio Un'esperienza comune sperimentata da molti Che quando una persona commette un errore Prova il desiderio di nasconderlo alla sua coscienza Piuttosto che offrirlo in alto perché sia purificato L'errore tiene strette a sé le sue azioni malvagie E rifiuta ogni correzione Anche se è solo nello stato di purezza Che la libertà perfetta può essere raggiunta È necessario un atto di volontà Per offrire quella consapevolezza alla luce E per ammetterla E per mantenerla in essa Fino a che la propria oscurità interiore Non sia completamente dileguata Ogni stato di coscienza infatti Possiede un suo potere di attrazione Quanto più permettiamo a quell'attrazione Di esercitare il suo fascino su di noi Tanto più attiriamo noi le circostanze E le esperienze obiettive Che sono connaturate a quello stato di coscienza La nostra fede è il potere di attrazione Del nostro stato di coscienza generale La bontà attira la bontà Ci vuole bontà anche solo per vedere la bontà Il male attrae il male E ci vuole il male anche solo per vedere il male Vale a dire per accoggersi della sua esistenza Tutto quello che in te è tenebra o luce Offrilo a Dio Solo nella luce suprema troveremo la salvezza Non accettare in te stesso Quale tua realtà permanente Nulla di inferiore a questo Come afferma la Bhagavad Gita nel capitolo dodicesimo Agrappati a me Abbracciami Con il cuore e con la mente Così dimorerai eternamente In cielo con me Ma se la tua mente Si scoraggia di fronte a tali altezze Se ti manca la forza di fissare il corpo e anima Costantemente su di me Non disperare Offrimi servizi meno elevati Cerca di raggiungermi pregando con volontà costante E se non puoi pregare incessantemente Lavora per me Impegnati in opere a me gradite Poiché colui che si impegna in opere giuste per amor mio Alla fine mi raggiungerà Ma seppure in questo il tuo cuore timoroso fallisce Offrimi il tuo fallimento Così attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all'umanità Aum 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 Ma non è bello Questa Questa frase della Bhagavad Gita Di Sri Krishna Che dà tanto tanto Sollievo Speranza E ci fa anche Sentire In un certo senso Va bene Allora anche In qualche modo Si potrebbe anche pensare Anche i miei fallimenti I miei errori Comunque Vanno bene No? Però facilmente Si Non nota Questa Parola In questa frase Offrimi Il tuo fallimento E credo Il segreto E nella parola Dell'offrire E quando Quante volte In verità Vediamo anche Nelle nostre vite Quando facciamo Dei errori Quando abbiamo Dei nostri fallimenti Cerchiamo piuttosto Di tenerlo un po' Nascosto Vero Non Quando qualcuno Ci indica Un nostro errore Piuttosto Diciamo Ah forse era Colpa sua O era Era Perché non sapevo Ci giustifichiamo No? E non Prendiamo Pienamente Responsabilità Di Anche Di nostri Fallimenti E ovviamente Nella coscienza Assoluta Divina Non c'è ombra Tutto Il consapevole E il problema Il nostro Che noi Teniamo dentro Di noi Tipo Nascosto Maria Di Maria Di cose Che Non vogliamo Ammettere Negli Neghiamo Anche A noi Stessi Agli Altri Mi viene In mente Ultimamente Ogni tanto Sono andato Con la mia Moglie Che fa Un lavoro Particolare Di terapie Di costellazioni Familiari Ho partecipato In questi Incontri E quello Che mi Proprio Sono rimasto Veramente Con bocca Aperto Dalla quantità Nascosta Dentro Anche Delle persone Per bene Con perfette Apparenze No Per indietro Le quinte Tutto Veramente Di tutto E di più Di peggiori Abusi Omicidi Suicidi Incredibilmente Io non ero Consapevole Quanto Nascosto Indietro Queste perfette Apparenze Di tutti Noi nascosto Indietro E quel lavoro Poi che lei fa È di portare Un po' Alla luce A questa Offrire Attraverso Il percorso Di consapevolezza Perché Vuol dire Di offrire Quello che offri Porti anche In consapevolezza In qualche modo La luce Della consapevolezza Tocca Ciò che offri E diventa Consapevole Quindi si può Risolvere Nella luce Io faccio Ultimamente Io faccio un lavoro Un po' particolare Ultimamente Di Crio Quello che Chiamo Sculture di luce Quindi Tolgo Tutto Ciò Tolgo pezzi Che bloccano La luce Diciamo Ultimamente Ho avuto Una commissione Molto bella Dove devo Intagliare La frase Di Gesù In antico Aramaico Dove dice Chiedete Vi sarà Dato Cercate Troverete Bussate E vi sarà Aperto In questo lavoro Di Facendo questo lavoro In qualche modo Non mentalmente Però più Intuitivamente Mi sono In qualche modo Messo in contatto Con il significato Di queste parole Anche nella sua lingua Come lui L'aveva Scusate All'epoca Espresso E proprio Questo principio E la parte Nostra Che dobbiamo Mettere in gioco Questa nostra Offerta Noi dobbiamo Chiedere E sulla Frequenza Su quale Chiediamo La risposta E sarà Esatta Dobbiamo Bussare A questa Porta A qualsiasi Chiamata Che facciamo Con nostra Frequenza L'universo Risponde A questo Livello Con quale Noi Chiediamo E questo Molto importante A capire Indietro Questo Principio Universale E la Lecce Della Attrazione E tutto Ciò Che accade Nella nostra Vita In qualche Modo Manifestiamo Attraverso Ciò Che Veramente Immaniamo E chiediamo Mi viene in mente Una storiella Di Yogananda Che qualcuno Ha raccontato Che era presente Sapete Quando Yogananda Ha dato I suoi discorsi Dopo Tanta gente Veniva da lui In fila A chiedere Tipo Salutarlo Oppure Chiedere una benedizione O Yogananda Parlava Due Tre parole Con lui Poi Veniva il prossimo Quindi c'era Una Lunga fila E c'era un uomo Giovane uomo Che era proprio Un po' Così Con le mani Nella tasca E veniva da lui E poi con la mano Sinistra Un po' messo Moscio Un po' Il braccio Così a lui E Yogananda Con totale indifferenza Anche colui Con la mano Sinistra Ha risposto Stesso modo E dopo Questo Giovane uomo C'era Una Divota Sua Che con Grande Felicità Amore E venuto Verso Di lui Yogananda Era pieno Di Amore Di luce La risposta Su questo Stesso livello Dopodiché Questo Giovane uomo Ha visto la scena E diceva Io voglio questo E si è rimesso In fila Indietro Di nuovo Arrivata Yogananda E di nuovo Yogananda E quindi Illustrano Poi il fatto Nel modo Nella qualità In quale Noi ci Rivolgiamo Al Chiamalo Dio Universo Il mondo La natura Risponde I grandi Maestri Ovviamente Vedono Sempre Come io Mi salutato Prima Non perché In affermazione Che Siamo tutti Grandi Animi Mi viene Anche In mente Una Ultimamente Ho ascoltato Una Su Youtube Ci sono tante belle cose Anche di Vali Discepoli Di Yogananda Di Un discepolo Di Yogananda Che non Ho mai Sentito Prima Parlare Che Era Di Tanti Grandi Discepoli Che erano Completamente Nascoste Delle Fari Delle Attenzioni Tipo Del Pubblico E questo Discepolo Si chiamò Dr. George E viveva Da qualche Parte A Wisconsin O qualche Parte Nel centro Parte Centrale Delle Stati Uniti E lui Ha incontrato Yogananda Già Negli Anni Venti Lui Camminava Nella strada E vedeva Questo strano Uomo Con Viscito Arancio Con Turbante Passare Davanti A lui Yogananda Lo fissava Così Passavano E poi Yogananda Si girava Anche lui Si girava Yogananda Aveva un bastone Metteva il bastone Sul suo petto Diceva Vieni A mia conferenza Stasera George Sapeva anche il nome Senza mai Aveva conosciuto E poi Andava via E lui Sabeva Chi era Questo Andava però Pochi metri Avanti C'era un cartello Swam Yogananda Eccetera Conferenza Stasera E quindi Andava E diventava Un discepolo Veramente Sembrava Molto Molto Di quello Che si raccontava In questo video Molto avanzato Che Sapeva Entrare In stati Di samadhi Di unione Accadevano Accadevano Intorno Miracoli Ma quello Che era Bello Che Questo Personaggio Era Totalmente Eccentrico C'era un Altro Discepolo Che è venuto A visitarlo E diceva Ma Questo Povero Un povero Uomo Ha bisogno Era Completamente Trassandato La sua Ciacca Tenuta Con una Spilla La sua Casa Era Totalmente Disordinato E lui Era proprio Preoccupato Per lui Però Questo Dr. George Poi L'ho invitato Nella Sua Attico Dove Meritava Per dormire Lì E lì Questo Questa Persona Aveva Un'esperienza Mistica Supercosciente E capiva Non è che Io devo Aiutare Lui Lui Mi sta Aiutando A me Che era Talmente Una Vibrazione Divina Intorno A lui Ma Non Anche Riusciva Bene A Pallare Era Talmente Estatico Non Impattava Niente Delle Apparenze Intorno A lui Della vita Diciamo Esterna Quindi C'è Di tutto E' anche Bello Di vedere Che Tanti C'erano Tanti Diversi Discepoli Di Yogananda E tanti Completamente Opposti Quasi Nel loro Modo Di manifestare La grandenza Spirituale Per Rimane La domanda Perché Come Noi Possiamo Metterci In contatto Con questa Frequenza Divina Come Noi Possiamo Veramente Offrire C'è a lui In questo Stato Più Alto Di quale Parla Anche La Bhagavad Gita La Hirimashaya Che era Il grande Avatar Dello yoga In modo Più Sublime Ha mostrato Nella sua vita Anche nel suo Desegnamento Anche Il meccanismo Il metodo La tecnologia Interiore Come Funzioniamo Veramente E questo È una grande La grande Mancanza Della società Di oggi Mancano Completamente I strumenti Per vivere Bene Mancano Proprio Il libretto Di istruzione Di vita Come funzioniamo Noi Come Meccanismi Non solo Fisico Ma Emozionale Energetico Mentale Psicologico Spirituale Su tutti i vari livelli Nessuno ci spiega mai Come funziona Funzione Questo meccanismo Uomo Vero o no? A chi Ha mai avuto Una spiegazione Approfondita Del nostro Interiore Meccanismo Come funzioniamo In verità Non viene Non viene Insegnato Nella scuola Non viene Trasmesso Nelle medie E per questo Vengono I grandi Maestri A riportare Questa Tecnologia Interiore Della liberazione E la Iri Maestri Ha spiegato In modo Molto Semplice Anche Come Come Noi Ci manifestiamo In verità Nel nostro Essere Diceva Che C'è Una parte Sopra Nostra Testa Dove Non c'è Un Stato Senza Frequenza Senza Movimento Assolutamente Immobile Non c'è Solo Assoluta Coscienza Poi Da Questa Parte Della fronte Della testa Questa Frequenza Entra In una Vibrazione Da 1 A 10 All Collo Questo Chakra Da 10 A 100 Nel cuore Da 100 A 1000 Nel plesso Solare Da 1000 A 10 Milla Poi 10 Milla A 100 Milla Nel secondo Chakra E da sotto Da 100 Milla Un milione Di Frequenze Quindi Siamo Tutti Creati Basati Su Delle Frequenze Il nostro Modo Di Rivolgersi Alla Vita E Di Comunichiamo Con frequenza Con energia Dipende Come noi Vibramo Su questa Frequenza Il mondo Ci risponde Con precessione Assoluta Matematica Al 100% E quindi Il nostro Lavoro Cos'è Di Calmare Di Uscire C'è modo Di dire In italiano Sei su Di giri Quindi Giriamo 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 Tutto C'è Un'oscillazione Qua Lì Siamo Costantemente Su Di giri In tante cose Abbiamo Perso Il nostro Centro Il lavoro Da fare E Quello Come Giottisci Una volta Ha dato Una bellissima Illustrazione Che si connette Bene Di una Stanza Immaginate Una stanza Che ha Sopra Un grande Ventilatore Come spesso In Zoni Tropicali Dove fa molto Caldo Anche qui In Italia E sul tavolo Tanti Diciamo Sotto Il ventilatore Tanti Piume No Di Tanti Piume E ovviamente Quando Il ventilatore Gira Veloce Tutte Le piume Sono La stanza È piena Di questi Piume Non vediamo Niente Siamo Completamente Acceccate Di questi Piume E man mano Che questo Ventilatore Rallenta Il giro No Man mano Scendono Questi Piume E possiamo Attraverso Va a dare Un po' Attraverso Tutti Questi Piume Vediamo Qualcosa E si Rallenta Ancora Un pochino Di più E sempre Di più Si Dipositano Sulla Tera Sul tavolo Diciamo E man mano Quando poi Alla fine Quando si ferma Tutto Scende E finalmente Abbiamo la Chiarezza E vediamo Il tutto Così anche Interiormente Quel lavoro Che dobbiamo Fare E di spegnere Quel dannato Questa cosa Che gira Costantemente Dentro di noi E ci vuole Il telecomando Normalmente Ci sono Dei telecomandi E devi Premere Il giusto Buttone Per spegnere E queste Sono le Tecniche Come il Cria E altri Che sono La tecnologia Per Per fare Sì Che questo Ventilatore Interiore Questo Oscillatore Si ferma E quando È veramente Sempre più Una può Pensare Anche più E diventa Noiosa Non c'era più Niente Della Perdo Intensità Di vita Il contrario È vero Più Lento Più Diventiamo Calmi Veramente Calmi Non fisicamente Calmi Interiormente Calmi Più Intenso Diventa La vita Più Riusciamo Percepire Sottile Energie Come Gioie Piaceri Possiamo Godere Tutto Di più Vediamo Tutto Molto Più Chiaro Perché Mena Piume Volano In giro Possiamo Distinguere Bene Del giusto Del spagliato E tutto Funziona Molto Meglio Quando Interrompiamo Questi giri Troppo Veloci E questo Nostro Lavoro Che nessuno Fa Per noi Di Fare Tutto Ciò Che Ferma Questo Oscillatore Della nostra Coscienza E portarci Tutti In un stato Fino Alla Immobilità Assoluta Vi Voglio Raccontare Qualche Storiella Ancora Di Yogananda Che Lui Anche Da Ragazzo Era Aveva Questa Lui Ha Chiesto O Sava A chiedere Tutto E noi Anche Dobbiamo In qualche Modo Non Essere Timidi Davanti Al Signore Dobbiamo Chiedere Per tutto Abbiamo Il diritto Di nascita Diceva Lui Di Della Totale Beatitudine Di Questo Più Incomparabile Incomparabile Gioia Quella Che Anche Le parole Non Riescono Anche Arrivare A Questo Stato Di Estasi Che Nostro Diritto Di Nascita Che Tutti Noi Possiamo Raggiungerlo Se Veramente Lo vogliamo Dobbiamo Chiedalo Dobbiamo Ossare Bussare 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 Finché Si apre Questa Porta Giugananda Era così Quando Una volta Stava Con Su Amico Erano Ragazzi Non so 12 anni Qualcosa Così E Giugananda Aveva solo Un'idea Voleva Dio Voleva Questa Coscienza E Parlava Con Su Amico Diceva Se Stanotte Se Chiediamo Totalmente Con tutta Nostra Fede Krishna Verrà In India Si ama Molto Krishna Un nome Per il Divino Lui Verrà In Questa Forma E L'altro Io Non so Se Viene Io Non sono Abbastanza Puro Eccetera Conoscete Un po' Il ragionamento Io Non mi Merito Diceva No no Anche tu Se ci Mettiamo Vedrai Tutta la Notte Preghiamo Stanotte Vedrai Che Verrà E Si mettevano E Meditavano Facevano I Kriya I Pranayams Meditavano 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 E Con tutta la Concentrazione Con tutta la Concentrazione E poi In un certo punto L'altro amico Si voleva Arrendere Ciao Diventava Martina No Forse Non viene Spagliato Non ascolta Dio non ci ascolta Non viene E Yogananda Ah No Non Arrenditi E lui Continuava A concentrarsi E poi Arrivava Questa Beatitudine Della visione Del Signore Nella forma Di Krishna E L'altro Ah Io non lo vedo Io non lo vedo Yogananda Lo toccava Il cuore E trasferiva Questa visione Al suo amico E anche lui Vedeva Krishna Quindi ci vuole Anche un po' Questa determinazione Sul percorso spirituale Determinazione Intensità E bussare E chiedere Una simile storia Anche quando Yogananda Che era anche Un po' Un birichino E molto simpatico Da ragazzino Combinava Un po' Di tutto C'è Lui La famiglia Tanti di noi Siamo andati In questa casa A Fogopa Road A Colcatta Dove Lui Sempre criticavano Questo atteggiamento Di questo ragazzino Che era Che non partecipava Alla vita Della famiglia Che non mangiava Abbastanza Che poi si ammalerà Con tutto questo yoga E poi Invita sempre Yogananda Paceva invitare Tutti i suoi amici A casa A mangiare Anche lì Sprecchi tutti i soldi Guadagnato Il tuo padre Eccetera C'era soprattutto Una zia Che sempre Lo criticava E accadeva un giorno Che Yogananda Era Di nuovo Per due giorni Meditava Nella sua Nella sua Camera dell'attico E scendeva Dopo A stare con la famiglia Durante la cena Durante la cena E Era molto ritirato Molto dentro Non parlava Era proprio Ancora in questo stato E di nuovo La zia Cominciava Sempre di Tutti questi militari Non hai fatto i compiti Per la scuola Eccetera Eccetera Più o meno Io illustro un po' Di coro Diciamo La storia Un pochino Ma era così E Sananda Su fratello minore Che racconta La storia Diceva Che Ha visto Nei occhi Di Di Mukunda Si chiamò così Il piccolo Yogananda Una Una luce Nei occhi Che conosceva Quando lui faceva Una delle sue Birichinate Perichinate E quindi sapeva qualcosa Accadrà E a un certo momento La zia continuava A criticare E All'improvviso Yogananda Caddeva Indietro Così Morto Chiamavano Un dottore Veniva Il dottore Hanno Sentito Il polso Non c'era polso Non c'era respiro Il dottore Ha chiamato Mi dispiace Tanto Per voi Questo ragazzo È morto E Immaginate La famiglia La zia Oddio Oddio Se lui Dovesse Solo Se potesse Ritornare In vita Non lo criticherà Mai Più In questo momento Yogananda Allora Non mi criticherà Mai più Tornato No E La zia Prendeva il bastone Correva Inghietto di lui E tutti Ridevano Perché la normalità È rientrata Nella casa E Questo Stato Di Samadhi Si chiama Quando L'uomo Ha il controllo Anche su tutto Il funzionamento Involontario Del corpo Come batto Del cuore Respiro E lui Yogananda Ha mostrato Tante volte C'è nel stesso libro Mekita Si chiama Purtroppo Solo in inglese Anche Un'altra Piccola storia Che anche Aggiungo Al racconto Che Sananda Il suo fratello Sentiva Spesso Parlare Yogananda Con Il suo Co-fratello Manomohan Che diventava Satyananda Più tardi Di Samadhi Delle varie Stati Ero molto curioso A sapere Ma cos'è Questo Samadhi E Ha chiesto A Yogananda Di Dimostrare A lui Il Samadhi E Yogananda Dice No no Tu sei troppo Piccolo E però Lui Insistiva Mi diceva Va bene Stanotte Vieni in Camera mia Lui era ancora Un ragazzo Non so 15 anni Forse 16 anni Non di più E vieni in Camera mia E Ti faccio vedere A lunedì notte E quindi Sananda Veniva nella Camera E Yogananda Stava c'è lì A meditare Ha messo un Tappettino Anche per lui Davanti E poi Ha spiegato A lui Guarda Lo yogi Porta dentro La sua energia Si ritira Dal corpo E lo porta Attraverso La devozione Del cuore Lo porta Nell'occhio Spirituale E poi Si libera E può fermare Tutto Il funzionamento Del corpo E entra In un stato Di unione Con il tutto E dopo Si metteva A meditare E fermava Fermava Il respiro Fermava Il battito Del cuore E stava Completamente Immobile In ecstasi Divina Quando Poi Quando c'è Come diceva prima Non c'è più Nessuna oscillazione Si apre Il tutto Questo Infinito Oceano Di Coscienza Di Beatitudine E Sananda E questo Fratellino Piccolo Che aveva Forse Deci anni Era tipo Dopo dopo Due ore Mamma mia Cosa succede E non sapeva Che fare Chiamò Il papà Il papà Veniva Che era anche In grandi yogi E lo Vedeva E cominciava A cantare Om 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 Nell'orecchio suo E massaggiando Il corpo E pian piano Tornava Nel corpo Appena Appena Cominciava A aprire Gli occhi Rientrava E poi Era anche Dolce Nel racconto Che Mukunda Poi era Un po' Forse In qualche modo Imbarazzato Che il papà Su Lo aveva visto In questo stato E doveva Farlo Fare Ritornare Però non Hanno mai parlato Papà Usciva Non ha detto Una parola Questo Così dicano È possibile Per tutti Noi Ciò Che dobbiamo Fare In qualche modo È togliere Tut Ogni cosa Che è compulsivo Ogni cosa Per arrivare Alla fine Della centrale Compulsività Del nostro Respiro Batte Cuore Questo è L'ultimo Ultimo 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 Livello Ciò che è Involontario È dentro Di noi Però Ci sono Tantissime cose Che noi Facciamo Di Involontariatamente Inconsapevolmente Compulsivamente Tantissime cose Siamo Reattivi In tante cose Il lavoro Comincia lì Di Prendere in mano Le nostre Impulso Compulsiva Chi ha mai cercato A meditare Sa quanto Compulsivo Incontrollabile Nostra mente Difficile Di Portarlo In questo Stato Di Pochi Giri Quando il ventilatore È spento Comincia Ancora Un po' Girare E finché Poi alla fine Si Si fermano E non è facile La chiave E Anche In questo Come abbiamo Come dice la Bhagavad Gita Offrimi Tutto Offrimi Ogni cosa Ogni mia Limitazione Ogni cosa Ogni Ogni momento Ciò che accade Il lavoro Un po' Dello yoga E di offrirlo Offrirlo In alto Ogni pensiero Ogni reazione Ogni Anche ogni Quando sbagliamo Quando abbiamo fatto Una cavolata Offriamolo Quando abbiamo fatto Qualcosa di Bello Offriamolo È tuo Di può diventare Il nostro mantra È tuo Anche questo È tuo Anche questo Che vedo In questo momento Tutto intorno a me È tuo Quello che Sento per te È tuo Quello che Ho sbagliato È tuo Finché Man mano Continua Invece del mio È tuo Man mano Ti liberi Un po' Come in questa Scultura di luce Tagliendo dentro I pezzi di legno No Man mano Esce un po' fuori Sempre Più la luce Che indietro No Che illumina fuori Dalle parole Di Gesù Più lo tagli Più lo togli Più emerge In verità La luce Di noi stessi Che noi tutti Siamo grandi anime Quando mi sedio Per salutare il sol Quando esco Nella città Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Quando rivo E quando piango In malintesi E nell'amor Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Dio 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 Sono tuo Per l'eternità Dio Dio Tuo Per l'eternità Nella sconfitta Nella vittoria Nella vita E quando a me Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Nel lavoro E nel riposo Nella gioia E nel bambino Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Nel silenzio Del mio cuore Signor Penserò solo A te Dio 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 Sono tuo Per l'eternità Dio 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 Sono tuo Per l'eternità Dio 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 Sono tuo Per l'eternità Dio Dio Sono tuo Per l'eternità Dio 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 Tuo Per l'eternità Dio 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 Grazie a tutti.